Cala il sipario sul 75esimo GAD. Ieri mattina il Teatro Sperimentale ha ospitato la consueta premiazione degli otto spettacoli per altrettante compagnie teatrali in concorso al Festival d'Arte Drammatica organizzato dall'Associazione Amici della Prosa. A farincetta di premi è stato lo spettacolo Sirano de Bergerac portato a Pesaro da un gruppo al debutto al GAD come la compagnia teatrale Archibugio di Lonigo. Compagnia vicentina che si è giudicato il premio Arlecchino per il miglior spettacolo decretato dalla regia presieduta da Massimiliano Giacometti. Sirano che ha vinto anche il premio Antonio Conti per la miglior regia di Giovanni Florio, ha vinto per il migliore interprete con il suo attore Cristian Zorzi, è stato premiato per i migliori costumi ed è stato giudicato miglior spettacolo anche dal premio Don Gaudiano assegnato dalla giuria studenti. La nostra prima partecipazione qui a Pesaro non ci aspettavamo un risultato di questo tipo e siamo ancora ubriachi di gioia per questo. Se devo dirla tutta c'è un premio che ci rende particolarmente felici ed è il premio della giuria giovani perché il nostro è un teatro che si propone anche come proposta culturale, si propone una volontà di avvicinare i giovani al teatro per cui vedere questa nostra volontà riconosciuta ci riempie di gioia e ci fa ben sperare per il futuro perché loro sono il futuro del teatro. Non solo Sirano, premi importanti ricevuti da un altro classico come Don Quixote Sancho Panza portato in scena a Pesaro dalla compagnia pugliese Calandra di Tuglie. L'interpretazione dell'opera di Servantes è stata premiata per la miglior scenografia, il miglior commento musicale e per Giovanni Serini giudicato miglior interprete giovane. Ernesto Fava ha vinto invece come miglior interprete non protagonista per l'opera L'Acquario, mentre Tom Dick Henry dell'Accademia dei riuniti di Umbertide vince il premio Ninchi offerto da Confesercenti come miglior spettacolo basato sul giudizio del pubblico e vince anche come miglior trailer il premio Sora offerto proprio da Rossini TV. È la fine di un festival molto importante che ci ha dato soddisfazione soprattutto di critica e di pubblico tutte le sere il teatro era quasi pieno, tutte le sere ci sono stati applausi per tutte le compagnie, sono state accolte benissimo, le compagnie erano di qualità, l'organizzazione era ottima e quindi c'è soltanto da essere molto contenti e anche orgogliosi di aver portato a casa questo 75esimo festival, cosa non scontata. È uno dei momenti più belli, gli spettacoli sono meravigliosi e ne siamo felici ma veramente il momento della premiazione ma direi meglio della condivisione è uno dei momenti più emozionanti tant'è che ho avuto modo di dire che siamo il festival più vecchio d'Italia ma anche il festival più piagnone d'Italia perché poi veramente l'emozione ha dominato le parole di molti degli intervenuti perché è stato bello ritrovarsi tutti assieme a condividere una storia importante che si è trascorsa, persone che si conoscono per la prima volta si vedono a Pesaro ma che si ritrovano protagonisti di una grande avventura come quella del festival. Quindi è veramente un'altra giornata bellissima, sono contento e ringrazio Rossini TV per averla documentata e per essere al nostro fianco anche quest'anno in questa bellissima iniziativa che è il festival.